Tre punti con gole a da finale del Città di Castello nel ventunesimo turno del Gironè di Sereddi nel match interno contro Montespaccato. Foni laziali a trovare il vantaggio con Vitelli che sfrutta l'intelligente sponda di Cali e trafigge Nannelli all'incrocio. A fine primo tempo però Terzini scende sulla sinistra e serve in area Grassi, pennellata Mancina che non lascia scampo a Tassi per l'1-1 che chiude la prima frazione. Ad inizio ripresa Rossitto, figlio d'arte classe 2003, segue un suo cross ribattuto dalla retroguardia avversaria e con un destro potente e preciso mette la sfera sotto la traversa per il 2-1 Città di Castello. I tifernati gestiscono così il vantaggio e poi dilagano nel recupero grazie al Doratiotto Show. Il numero 9 bianco-rosso trova prima il 3-1 trafiggendo Tassi in contropiede e poi il poker di squadra doppietta personale sfruttando la deliziosa assistenza di Calderini con controllo e Mancino volante d'autore per il super goal che decreta il 4-1 finale. Città di Castello a quota 29, a più 4 dai play-out e a meno 3 dalla zona play-off. Prossimo turno in quel di Ponzacco per la compagine di mister Alessandria. Questa è una squadra, non lo dico perché abbiamo vinto, perché l'ho detto a loro anche quando non si è vinto, che ha un grosso carattere, un grosso gruppo. È normale che si vorrebbero vincere tutte le partite ma ci sono sempre gli avversari, però oggi abbiamo fatto quello che andava fatto e ci godiamo la vittoria e da domani si comincia a pensare alla prossima. Pari a reti bianche invece per l'Orvietana contro Poggi Bonzi e anche per il Trestina che riporta un punto dal difficile campo del follonica Gavorrano al termine di una gara squisitamente tattica, quanto piuttosto arida di emozioni. Così l'Orvietana resta in piena zona play-off a 21 e nel prossimo turno sfiderà in trasferta la Pianese. Un punto sotto resta il Trestina, atteso ora alla delicata sfida interna contro il Grosseto. Credo che il punto sia estremamente meritato, è stato frutto di una prestazione dove abbiamo avuto un atteggiamento della squadra che vuole prendere punti ovunque e quindi credo che sia un atteggiamento estremamente propositivo da cui ripartire anche per le prossime partite perché le prestazioni ci sono sempre state e forse ci è mancato quel pizzico di rabbia, di cattiveria nei momenti decisivi della partita che oggi abbiamo avuto e quindi siamo piuttosto soddisfatti del risultato e della prestazione.